Rampelli vicepresidente della Camera, è bello, Rampelli no, le voglio far vedere una cosa, lei non ci crederà, guardi qua, questo è l'elenco degli ospiti, chiedo alla regia di seguirmi. Che è successo? No, legga lei, legga lei, perché io non ce la faccio, legga qua che c'è scritto. Vicepresidente della Camera, Movimento 5 Stelle. Come si sente? È un forte imbarazzo. È andata così, però come ha visto io sono stata, no? Mi sono fermata e ha detto oh mio Dio. Ho dovuto scrivere Movimento 3 Stelle, invece hanno anche fatto questo refuso, diciamo. Ha visto? Cioè quello poi forse qualcosa significa, magari in un futuro, Rampelli. Non credo, se non si sa, non credo. Se non si sa, non si sa, non si sa. Il Movimento 5 Stelle abbia un futuro, quindi diciamo che sono un po' scettico al riguardo. Allora...